Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni È possibile che in questa battaglia tra il bene e il male il diavolo possa usare fenomeni paranormali straordinari per prepararsi per l'inganno dell'ultimo giorno da dare al mondo? Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni In passato pensavamo che chiunque parlasse di UFO, oggetti volanti non identificati, fosse un pazzo fanatico. Ma hai notato che c'è un crescente interesse negli eventi extraterrestri e negli avvistamenti di UFO e oggetti non identificati? Negli ultimi anni, per tutto il mondo, la gente ha raccontato di aver incontrato gli UFO. Riguardo i film, e spero che tu non ne sappia molto, noterai che ci sono i film sugli UFO, i viaggi nello spazio, che generano milioni di dollari. I funzionari del governo negli Stati Uniti e di molte altre nazioni hanno studiato questi fenomeni aerei non identificati e hanno iniziato a declassificare documenti e video e producono rapporti per un pubblico curioso. Quindi ci si chiede, gli extraterrestri visitano davvero il nostro pianeta? La Bibbia ci dice qualcosa su questi esseri di altri pianeti? Sono reali? È una grande bufala? Avremo mai contatto con esseri provenienti dallo spazio? Questi avvistamenti sono reali o è qualche bufala? Di recente, e questo mi ha spinto a preparare questo messaggio, di recente, e questo mi ha spinto a preparare questo messaggio, recentemente il Pentagono ha declassificato una serie di documenti sugli UFO. I media hanno raccolto la storia. Se segui le notizie, noti che il Congresso ha approvato una legge di spesa di 2.3 trilioni di dollari sul pacchetto di aiuti per il coronavirus. È stata approvata nel dicembre del 2020. Sai che in quell'accordo nascosta c'era una clausola? Che imponeva al Dipartimento della Difesa e all'Ufficio del Direttore dello Spionaggio di fornire un rapporto non classificato sugli UFO al Congresso entro sei mesi. Devono dire ciò che il governo sa su questi oggetti volanti non identificati, che volano sullo spazio aereo americano. Il rapporto tanto atteso è stato appena rilasciato. Ha solo nove pagine, ma ci dice di più su questo argomento. Più di qualsiasi cosa che il pubblico americano abbia mai saputo. Mentre lo leggevo, ero piuttosto scioccato e stupito da ciò che il governo sa. Questo rapporto è stato dato al Congresso. La prima cosa interessante. Noi sappiamo che negli ultimi anni piloti militari hanno riportato al governo 144 contatti con questi UFO. Il periodo va dal 2004 al 2021, ma la maggior parte è stato negli ultimi due anni. Come guardavano a questi 144 rapporti, potevano identificarne solo uno falso, un palloncino. Qualcuno che pensava fosse un UFO, ma il resto era inspiegato. In base al rapporto rilasciato dal Pentagono solo poche settimane fa, 18 rapporti riferiscono che questi UFO avevano schemi di volo insoliti. Potevano resistere al vento forte contrario. Potevano allontanarsi molto rapidamente senza alcuna indicazione di propulsione jet. che potevano andare contro vento. Iniziarono anche a notare che, su pochi di loro, i militari avevano raccolto energia a radiofrequenza proveniente da questi avvistamenti. In 11 casi, i piloti di linee americani hanno avuto quasi degli incidenti con gli UFO. Una delle domande fondamentali è Questo pianeta è mai stato visitato da alieni o esseri di qualsiasi forma dallo spazio? Siamo noi soli in questo universo? Il pianeta Terra è l'unico pianeta popolato nell'universo? Se ci sono esseri su altri pianeti, come sono? E cosa c'entra tutto questo con me e te oggi in questa battaglia tra il bene e il male? Nella grande controversia tra Cristo e Satana? La Bibbia non ci dà tutte le risposte sugli UFO, ma rivela che il nostro pianeta è nel mezzo di un conflitto cosmico tra il bene e il male. E che non siamo gli unici esseri creati nell'universo. Gli angeli buoni e cattivi combattono per le nostre menti. Combattono per la supremazia del mondo. Quindi guardiamo brevemente alle prove nella Bibbia per la vita su altri pianeti. Diamo un'occhiata a quelle prove nelle scritture. È possibile che nella battaglia tra il bene e il male il diavolo possa usare straordinari fenomeni paranormali per prepararsi all'inganno finale verso il mondo? Ci sono prove per la vita su altri pianeti? E se c'è, che tipo di vita è? Sono esseri caduti? Sono esseri non caduti? Andiamo al libro di Giobbe, capitolo 1, per cercare di avere un'immagine di questa grande controversia tra il bene e il male. Giobbe, capitolo 1, verso 6. «Accadde, accadde nel lontano passato, millenni fa, migliaia di anni nel passato che riguarda il nostro presente. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana». L'Eterno disse a Satana, «Da dove vieni?» Satana rispose all'Eterno e disse, «Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù». Nella Bibbia si dice che c'è questa riunione in cielo dove i figli di Dio, e dobbiamo scoprire chi sono, ovviamente non sono esseri caduti, altrimenti non si chiamerebbero figli di Dio. Cito, «I figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana». L'Eterno rispose a Satana, «Da dove vieni?» Satana rispose dall'andare avanti e indietro sulla terra. Quindi Satana è il principe del potere dell'aria, è il principe di questo mondo. Gesù disse, «Viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me». Evidentemente Satana rappresenta questo pianeta, ma questi figli di Dio devono rappresentare altri pianeti non caduti nell'universo che Dio ha creato. Lo troviamo in Giobbe, capitolo 2, dove se ne riparla. Giobbe, capitolo 2, verso 1. «Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana a presentarsi davanti all'Eterno. L'Eterno disse a Satana, Da dove vieni? Satana rispose all'Eterno dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. Così, in cielo ci sono due riunioni. Vengono i figli di Dio per incontrare Dio, Satana è il rappresentante del nostro mondo. La Septuaginta è la traduzione greca dell'Antico Testamento, presumibilmente fatta da 70 studiosi ebrei. Quando la Septuaginta traduce la frase «Figli di Dio», guardando all'ebraico dice «Gli angeli di Dio». Evidentemente Dio ha creato esseri angelici che abitano diversi luoghi o pianeti nell'universo, ben oltre il nostro sistema solare. Satana viene a rappresentare la Terra. La Bibbia insegna che Dio ha creato i mondi, non solo questo mondo. Ebrei, capitolo 1. Ebrei, capitolo 1. Se avete la Bibbia, andate in Ebrei, capitolo 1. Stiamo esponendo il fatto che Dio ha creato mondi diversi nell'universo e che ci sono evidenze bibliche per quei mondi. Ci sono schiere di angeli buoni e stamattina studieremo queste cose. Vedremo gli angeli buoni e quelli cattivi. Vedremo il conflitto tra bene e male. Ebrei, capitolo 1, versi 1 e 2. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, Isaia, Geremia, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose. Leggiamo assieme l'ultima frase. Sei pronto? Per mezzo del quale ha anche fatto l'universo o i mondi. In base alla Bibbia c'è stato un tempo in cui i figli di Dio lo hanno incontrato. Questi figli di Dio sono esseri angelici e apparirono davanti a Dio. Satana viene dal pianeta Terra per apparire davanti a Dio. In Ebrei, capitolo 1, si dice che Dio creò i mondi e in questi mondi angelici, in queste galassie lontane, non sono caduti nel peccato. Secondo la Bibbia, la Terra è l'unico pianeta che si è caduto nel peccato. Cristo venne su questa Terra. Ma la Bibbia parla di un'innumerevole compagnia di angeli. Ebrei, capitolo 12, verso 22. Daniele, capitolo 7, verso 10, dice «Mille migliaia e miriadi di miriadi». In Genesi 28 si parla di Giacobbe che fugge da suo fratello Esau e, mentre prega, vede una scala scendere dal cielo e gli angeli che salgono e scendono. Noi siamo stati visitati da esseri dello spazio. Non guidano qualche disco volante, ma piuttosto sono esseri angelici. Se potessi togliere il velo, con occhi divinamente unti, vedremo dei buoni angeli che visitano il mondo. Nella Bibbia troviamo questi angeli buoni. Portano messaggi di misericordia al popolo di Dio. Ad Abrahamo portano promesse di benedizione. Abrahamo incontrò tre estranei che si avvicinavano a casa sua. Questi erano angeli. Abrahamo li ricevette e li intrattenne. Angeli si avvicinarono a Lot e lo affrettarono ad uscire da Sodoma prima della sua distruzione. Gli angeli nutrirono Elia quando, nel deserto, stava per morire per la stanchezza e la fame. Gli angeli proteggevano Eliseo. Quando erano intrappolati nella città di Dotan, il suo servo ebbe paura per i carri e i cavalieri che li circondavano. Ma Eliseo disse, quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco che li proteggevano. Angeli apparvero a Daniele in Babilonia quando cercava la sapienza divina. Angeli chiusero la bocca dei leoni quando volevano mangiarsi Daniele. Angeli liberarono Pietro quando fu condannato a morte nella prigione di Erode e lo diressero da Cornelio, il centurione romano, che ricevete la verità su Gesù. Angeli visitarono Paolo in prigione ma si aprirono sia le porte che le catene. Santi, giusti angeli sono gli ambasciatori di Dio per guidare, proteggere, impressionare, rafforzare, liberare, il suo popolo. Angeli fedeli a Dio sono l'ambasciata di Dio. Non ne siete felici? Gli angeli buoni sono più numerosi di quelli cattivi. Sono il doppio. Ve lo mostrerò con la Bibbia. Sei felice sapendo che il Dio che ha inviato gli angeli per proteggere, guidare e rafforzare i suoi figli non sta dormendo e come lo cerchiamo in preghiera oggi ci manda degli angeli per respingere le forze del male, per poter trionfare nel conflitto tra il bene e il male. Dio ha provveduto per ogni cosa che riguarda la nostra salvezza. Cito tre potenti passaggi sugli angeli, due nell'Antico Testamento, l'altro nell'uovo. Salmi 91, verso 11. Salmi 91, verso 11. Nella Bibbia, tornando al Libro dei Salmi, non siamo soli nella lotta, non siamo soli nel conflitto. Il Dio del Cielo ha mandato gli angeli. Salmi 91, verso 11. Poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Esseri angelici inviati dal cielo ci devono proteggere, guidare e rafforzare. Salmi, capitolo 34, verso 7. Ho colto una bella sfumatura di questo versetto nella New Living Translation, poi lo leggerò nella New King James, poi tornerò alla New Living. E penso che possiamo capire. Salmi 34, verso 7. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. La New Living Translation dice l'angelo del Signore è in guardia e circonda e difende tutti quelli che lo temono. Quando il diavolo ti attacca con le forze del male, quando il diavolo ti attacca con le forze delle tenebre, ricorda il Salmo 34, verso 7. L'angelo del Signore è in guardia e circonda e difende tutti quelli che lo temono. Ebrei, capitolo 1, verso 14. Tre potenti passaggi. Tre potenti passaggi sugli angeli giusti, santi e buoni che ci circondano, proteggono e difendono. Ebrei, capitolo 1, verso 14. Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Alcune versioni dicono per coloro che stanno ereditando la salvezza. Questi buoni angeli ci circondano, ci guidano e ci proteggono. Mentre ti inginocchi in preghiera, ringrazia Dio per il suo amore e Gesù per il messaggio di salvezza. Ringrazia lo Spirito Santo per convincere il tuo cuore e ringrazia Dio per gli angeli celesti. quegli angeli che ci circondano, proteggono e guidano. La Bibbia insegna che non ci sono solo angeli giusti, fedeli a Dio, che cercano il nostro bene, ma che ci sono anche angeli malvagi che vogliono distruggerci. La Bibbia insegna che un terzo degli angeli hanno ascoltato le bugie di Satana, sono stati ingannati e sono caduti. Apocalisse, capitolo 12, dal verso 7 al 10. Un bel passaggio. Apocalisse, capitolo 12, dal verso 7 al 10. E poi torniamo al versetto 4. Apocalisse 12, dal verso 7 al 10, poi verso 4. E vi fu guerra in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Anche il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. Sottolinea quelle tre parole, imprimile profondamente e indelebilmente nella tua mente, ma non vinsero. Gli angeli malvagi che hanno combattuto Gesù in cielo non hanno vinto e non vinceranno nella tua vita. Gli angeli malvagi non hanno vinto quella battaglia e, tramite Cristo, non vinceranno la battaglia nella tua vita. Gesù scaccia gli angeli malvagi dal cielo e scaccia le influenze malvagie dalla tua vita, ma non vinsero e per loro non fu più trovato posto nel cielo. Così il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, notate, il diavolo è chiamato dragone e serpente. Dragone perché distrugge e serpente perché inganna. Inganna chi vuole distruggere e distrugge chi ha ingannato. Così il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Se il diavolo ha avuto seguaci in cielo, in un mondo perfetto, tanto da ingannare un terzo degli angeli, non concluderesti che i suoi inganni sono molto seducenti e molto astuti? Se può ingannare gli angeli in un mondo perfetto, allora dobbiamo capire chiaramente come superare le sue astuzie mentre cerca di distruggerci e ingannarci. Quanti degli angeli sono stati cacciati dal cielo? Versetti 3 e 4. Nel cielo apparve anche un altro segno, un gran dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna e sulle sue teste vi erano sette diademi. La sua coda, del dragone, trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. Quanti angeli sono infedeli a Cristo e sono stati scacciati dal cielo? Un terzo. Quanti angeli sono rimasti fedeli allora? Bene, siete dei bravi matematici. Due terzi degli angeli erano fedeli a Dio. Questa è l'incredibile buona notizia. Nonostante tutti gli angeli malvagiche a Satana, noi non sappiamo quanti siano, Dio ha il doppio degli angeli buoni. Nonostante i molti angeli malvagi di Satana, Dio ha questi angeli buoni, giusti e santi, per circondarci e proteggerci. Satana è un grande ingannatore, inganna un terzo degli angeli e noi siamo in una battaglia. Questo è il conflitto tra il bene e il male. Questa è una grande controversia. Efesini 6, verso 12 Siamo in una grande controversia tra il bene e il male. In questo video vogliamo scoprire come possiamo vincere questa battaglia. Come possiamo usare tutto ciò che Cristo ha provveduto per noi. Efesini, capitolo 6, verso 12 Siamo in una guerra. Come entriamo negli ultimi giorni della storia umana, gli attacchi del diavolo non diminuiranno, ma saranno più feroci. Userà il suo potere ingannevole e astuto per modellare le nostre menti in conformità a questo mondo, per tentarci e separarci da Cristo. Ma non dobbiamo temere, perché Gesù è più potente del maligno. Abbiamo angeli celesti che ci aiuteranno per permetterci di trionfare sui poteri delle tenebre. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, cioè gli angeli malvagi, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Chi sono? Sono gli angeli malvagi. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. Quindi non lottiamo contro carne e sangue, ma c'è una battaglia per la tua mente. La più grande battaglia nella storia umana non sarà nel Medio Oriente, tra forze opposte. Non è una battaglia per Gerusalemme, è la battaglia per la mente umana. Il diavolo fa tutto il possibile per catturare la tua mente, per influenzare i tuoi pensieri, per allontanare il tuo affetto da Cristo, perché il diavolo vuole che si perdano più persone possibili. Ma grazie a Dio, Gesù ha fornito la salvezza per tutti. Grazie a Dio, lo Spirito Santo ha fornito il potere di vincere. Grazie a Dio, ci sono angeli celesti che ci guidano e aiutano anche nei momenti più difficili, anche nei luoghi più difficili, nelle circostanze più insolite. Vi ho raccontato varie storie di un mio amico, Mikhail Kulakov, ma te ne racconterò una nuova. Mikhail Kulakov era il presidente della Chiesa Ventista del settimo giorno nella Russia sovietica. Noi eravamo carissimi amici, spesso viaggiavamo insieme e condivideva le sue esperienze di prigionia. Cosa significava scegliere Cristo? Cosa significava essere oppressi dalle forze del male? Quando il governo cerca di opprimere il popolo di Dio. Mi disse che una volta è stato arrestato per cinque anni e durante quel tempo pregava Dio, Dio, in questa prigione, portami la Tua luce, portami la Tua verità più profondamente. Gli chiesi quale fu il momento più difficile in prigione. Disse la solitudine. Poi la fame. Disse, ero sempre affamato. Poi il freddo. Ero tremante. Avevo freddo e avevo fame. Il mio corpo è indebolito dalle condizioni orribili e in quelle circostanze sei pronto a cedere. Ma disse, spesso era come se gli angeli fossero nella mia cella, come se la cella fosse illuminata dalla gloria di Dio. Ti racconto una storia interessante. In prigione c'erano molti rabbini ebrei e ho sempre voluto imparare l'ebraico. Quindi il mio corso di laurea fu un corso carcerario in ebraico. I rabbini mi hanno insegnato l'ebraico. Poi volevo imparare il greco. In prigione incontrai uno studioso di greco del Nuovo Testamento. Volevo imparare l'inglese e così trovai qualcun altro che mi insegnò l'inglese. In quei cinque anni di prigione imparai l'ebraico, il greco e l'inglese. Quando uscì di prigione fondò l'istituto di traduzione della Bibbia russa perché la vecchia Bibbia russa era scritta in un russo antico e molto difficile da capire. Così, uscito di prigione, conosceva l'ebraico dell'Antico Testamento, il greco del Nuovo Testamento, istituì un istituto di traduzione biblica e tradusse dalle lingue originali, l'ebraico e il greco, tradusse la Bibbia affinché il popolo russo potesse leggerla. Fu un progetto di dieci anni. La tradusse in russo. Lo vedete nello schermo. Questa è un'edizione russa della Bibbia e ricevetti una delle prime copie stampate. Un'edizione russa della Bibbia tradotta dal team del pastore Kulakov. Ci vollero dieci anni ed ora questa è la Bibbia standard per la Russia. Tutto perché lui imparò l'ebraico, il greco e l'inglese in prigione, guidato dalle forze celesti e dagli angeli. Satana ha un terzo degli angeli ma Dio ne ha due terzi. E quando la crisi finale si abbatterà sul mondo con furia incessante, il diavolo userà la forza, la forzatura, userà anche i falsi miracoli per cercare di farci disubbidire a Cristo. Ci sedurrà in aree che non ci aspettiamo. negli ultimi giorni opererà attraverso segni, prodige, falsi miracoli. E per una generazione mediatica che vuole il sensazionalismo, il diavolo farà miracoli sensazionali. E se ora non dite che il pastor Finley lo ha detto perché non è così. Dico e se e se ci fossero degli esseri cosmici che atterrano o appaiono a Washington DC o in un grande stadio e se le persone venissero guarite tra virgolette guarite dal cancro e dalle malattie cardiache? Pastor Mark, non può succedere. Hai letto la Bibbia? Seconda Tessalonicesi Seconda Tessalonicesi Per una generazione che cerca il sensazionalismo, i segni, i prodigi e i miracoli, il diavolo darà a loro ciò che vogliono. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 Seconda Tessalonicesi capitolo 2 Dio ci sta preparando per le delusioni quasi travolgenti che verranno Seconda Tessalonicesi capitolo 2 Seconda Tessalonicesi capitolo 2 verso 3 Nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno il ritorno di Cristo non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato il figlio della perdizione l'avversario è colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio quindi ci sarà una persona una guida religiosa che cercherà di unire Chiesa e Stato siede nel Tempio di Dio cioè afferma di parlare ex catedra infallibile ma notiamo come il diavolo ingannerà dal versetto 8 in poi allora sarà manifestato quel lempio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta la venuta di quel lempio avverrà per l'azione di Satana accompagnata da ogni sorta di portenti ripeto da ogni sorta di portenti di segni e di prodigi bugiardi così il diavolo opererà con ogni sorta di portenti di segni e di prodigi bugiardi farà miracoli per ingannare e se non siamo ancorati alla parola di Dio e vogliamo miracoli sensazionali sostituendoli con la verità saremo ingannati leggiamo il versetto 10 è da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati e per questo Dio manderà loro efficacia di errore perché credono alla menzogna si può credere alla bugia se la bugia viene detta abbastanza lungo diventerà verità ma se ci credo abbastanza lungo non potrai mai conoscere una bugia puoi conoscere solo la verità ma puoi credere ad una bugia il diavolo cerca di fare miracoli sensazionali per una generazione che non conosce la parola di Dio che vuole la sensazione e l'emozione il diavolo farà quei miracoli per ingannarli la Bibbia dice perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati qual è la nostra salvaguardia in questi ultimi giorni è l'amore per la verità Apocalisse capitolo 13 versi 14 e 15 Apocalisse capitolo 13 versi 14 e 15 Apocalisse capitolo 13 versi 14 e 15 qual è qual è l'obiettivo del diavolo con l'inganno Apocalisse capitolo 13 dice e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia per chi ha la Bibbia King James cosa dice al posto di prodigi c'è un'altra parola miracoli questi prodigi sono falsi miracoli che ingannano la Bibbia dice che ingannano coloro che ricevono il marchio della bestia il diavolo unirà la chiesa e lo stato e cercando di far rispettare i suoi decreti userà falsi miracoli per dare credibilità alla sua opera Apocalisse capitolo 19 verso 20 nell'universo c'è una battaglia tra il bene e il male gli angeli buoni e gli angeli malvagi combattono in questa battaglia appena prima della fine dei tempi Satana userà ogni possibile inganno userà falsi miracoli Dio fa miracoli Dio può fare miracoli farà Dio miracoli gli ultimi giorni della storia certo ma farà miracoli per rafforzare la disubbidienza delle persone ai chiari insegnamenti della parola di Dio no i veri miracoli di Dio conducono le persone alla fedeltà della parola di Dio portano le persone ad un'esperienza più profonda con Cristo i falsi miracoli ti ancorano alla falsità che hai già creduto Apocalisse capitolo 19 verso 20 ma la bestia fu presa si parla della seconda venuta di Cristo quando Satana è legato all'inizio del millennio ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine la King James dice miracoli quindi segni prodigi e miracoli saranno usati per ingannare chi riceve il marchio della bestia ma c'è un ultimo inganno di Satana se il mondo sta aspettando la seconda venuta di Cristo Satana tenterebbe di fare un falso secondo ritorno potrebbe essere che lui usi fate attenzione potrebbe essere che lui usi la tecnologia per cercare di farlo potrebbe essere che il mondo sia stato condizionato per un'invasione dallo spazio attraverso i film spaziali e paranormali e se il diavolo facesse una falsa seconda venuta non potrà mai contraffare il modo in cui Gesù verrà Apocalisse capitolo 1 verso 7 egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà quando verrà Gesù ogni occhio lo vedrà sarà come un fulmine dall'est all'ovest i suoi piedi non toccheranno la terra le tombe si apriranno il diavolo non può risuscitare i morti quando Gesù verrà i giusti viventi saranno trasformati per ricevere dei corpi mortali saranno rapiti in cielo e se il diavolo apparisse a Parigi se apparisse a Roma cosa succede se apparisse a Washington Chicago Los Angeles e se ci fossero dei grandi incontri la Bibbia lo suggerisce Apocalisse capitolo 12 verso 11 Apocalisse 12 verso 11 leggeremo Apocalisse capitolo 12 versi 11 e 12 ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte cioè queste persone erano ancorate a Cristo hanno testimoniato per Cristo sino alla morte versetto 12 perciò rallegratevi o cieli e voi che abitate in essi ma guai a voi abitanti della terra e del mare perché il diavolo è sceso a voi cioè vi è apparso è sceso a voi con grande ira sapendo di aver poco tempo quindi appena prima della venuta di Gesù il diavolo sa di aver poco tempo e cercherà di distruggerci nel libro dei Corinzi Paolo dice che Satana si trasforma in un angelo di luce questa apparizione di Satana come grande operatore di miracoli è la delusione più grande Satana che impersonifica Cristo ora vi leggerò due citazioni una è sullo schermo l'altra la leggerò dal libro Il Gran Conflitto Il Gran Conflitto ci aiuta a prepararci per gli eventi che stanno arrivando cito Satana si prepara da tempo per il suo ultimo sforzo di ingannare il mondo con i suoi angeli malvagi Satana sta sviluppando la sua strategia poco alla volta si prepara per il suo capolavoro d'inganno nello sviluppo dello spiritismo ci sarà l'opera di angeli malvagi ci saranno le cosiddette apparizioni dei cari defunti se non conosci la verità puoi essere spazzato via egli non ha ancora raggiunto il pieno compimento dei suoi disegni ma lo farà nell'ultimo residuo di tempo il profeta dice e vedi uscire tre spiriti immondi simili a rane sono spiriti di demoni che fanno prodigi miracoli e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente tranne chi è custodito dal potere di Dio mediante la fede nella sua parola come siamo custoditi? attraverso cosa? il potere di Dio attraverso la fede nei miracoli? no attraverso la fede nella sua parola il mondo intero sarà ingannato le persone si culano in una sicurezza mortale per essere poi risvegliate solo per l'ira di Dio cito da Il Gran Conflitto pagina 624 edizione americana come atto di coronamento nel grande dramma dell'inganno Satana impersonerà Cristo in Apocalisse 12 verso 12 abbiamo già letto che Satana scenderà per cercare di impersonare Cristo ora l'ingannatore farà sembrare che Cristo è venuto in diverse parti del mondo Satana si manifesterà tra gli uomini come un essere maestoso di abbagliante splendore simile alla descrizione del Figlio di Dio in Apocalisse capitolo 1 si griderà Cristo è venuto Cristo è venuto sarà il vero Cristo? ovviamente no come possiamo essere protetti da questo? questo pianeta è mai stato visitato dagli esseri celesti? certo sono venuti gli angeli di Dio ma come Cristo è venuto la prima volta verrà una seconda volta Cristo che venne la prima volta e che sta per tornare può proteggerci il creatore dell'universo l'onipotente visitò questo pianeta duemila anni fa Galati 4 verso 4 quando è venuto il compimento del tempo Dio ha mandato suo figlio lo ha fatto la prima volta manderà suo figlio una seconda volta e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi Gesù è già venuto tornerà noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il padre ha amato il figlio per essere il salvatore del mondo questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori attraverso la Bibbia è venuto una volta e sta tornando di nuovo prima Giovanni 5 verso 4 poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede fede in Cristo che venne in passato fede nella sua grazia nella sua misericordia nel suo perdono nella sua resistenza possiamo vincere con la fede nella sua parola la fede è credere e confidare nelle promesse di Dio è essere ancorati in Cristo ancorati nella sua parola non è un'esperienza cristiana superficiale dove ci si aspetta un impulso elettrico che salga lungo la spina dorsale per sentirci bene è una fede solida che non può essere spostata nonostante quello che ci capita richiama i tuoi sensi per abbandonarti a Dio in Efesini capitolo 6 verso 14 Paolo parla di come sopravvivere negli ultimi giorni tu e Dio possiamo essere sopravvissuti non statistica noi possiamo sopravvivere al grande inganno che sta arrivando su questo mondo il cielo ha fornito ogni risposta sta per noi Efesini capitolo 6 verso 14 nel versetto 12 è detto poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le potestà contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti verso 14 state dunque saldi avendo ai lombi la cintura della verità rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace soprattutto prendendo lo scudo della fede avendo ai lombi la cintura della verità nel mondo antico i soldati romani avevano una cintura di armatura intorno alla vita perché quando combatti corpo a corpo con le spade il primo posto da colpire è la zona dello stomaco cito avendo ai lombi la cintura della verità c'è una meravigliosa citazione nel libro nei luoghi celesti che descrive come sarà protetto il popolo di Dio nei luoghi celesti pagina 297 edizione americana Satana porta tutti i suoi poteri all'assalto nell'ultimo conflitto ravvicinato e la resistenza del seguace di Cristo è messa a dura prova a volte sembra che egli debba cedere ma una parola di preghiera al Signore Gesù va come una freccia al trono di Dio e gli angeli di Dio vengono mandati sul campo di battaglia poi l'esito cambia le nostre menti sono piene della parola di Dio in ginocchio preghiamo a Cristo e mentre inviamo quelle parole a Gesù con la preghiera egli invia angeli celesti che scendono per guidare e proteggere la preghiera è un'arma potente per sconfiggere le forze del male la preghiera e la parola di Dio sono la nostra sicurezza nella Bibbia il ruolo degli angeli con la preghiera è chiaro essi testimoniano la parola di Dio gli angeli celesti vengono per respingere le forze del male affinché possiamo capire la parola di Dio gli angeli servono coloro che sono eredi della salvezza e ci aiutano a comprendere la parola di Dio in questo conflitto cosmico tra bene e male gli angeli celesti respingono le forze del male la nostra armatura protettiva è la preghiera la parola di Dio l'impegno con Cristo e la voglia di fare qualunque cosa ci chieda qualche settimana fa ho partecipato al consiglio annuale della chiesa ventista dove le guide da tutto il mondo si incontrano e sentiamo rapporti e storie da tutto il mondo ascoltiamo resoconti dalla Cina dove alcuni dei nostri pastori sono attualmente in prigione resoconti dall'Africa e di cosa Dio sta facendo lì resoconti dall'ex Unione Sovietica uno dei resoconti che mi ha entusiasmato era sulla liberazione fatta dagli angeli la raccontata Arthur Stella uno dei vicepresidenti della conferenza generale degli aventisti del settimo giorno durante i giorni sovietici noi stavamo ricordando i miracoli che Dio ha operato in passato durante quei giorni uno dei nostri pastori venne imprigionato è stata una circostanza molto difficile la prigione era fredda buia e umida e la guardia carceraria era insolitamente crudele nell'interrogatorio di questo pastore aventista la guardia carceraria disse tu credi nei miracoli della Bibbia? ovviamente il pastore disse sì credi che Gesù sfamò i cinquemila? sì credi che Gesù potesse guarire i malati? certo credi che Gesù potesse camminare sull'acqua? è solo un mito non è una storia è un mito sì io ci credo disse il pastore la prigione era accanto a un fiume molto grande un fiume veloce scuro e molto profondo il capitano disse di seguirlo andarono al fiume e disse se credi che Gesù ha camminato davvero sull'acqua allora devi credere che lui può darti il potere di camminare sull'acqua quindi voglio vederti camminare sul fiume il pastore aventista disse dammi tre giorni per digiunare e pregare tornò nella sua cella digiunò e pregò quel giorno il capitano chiamò tutti i prigionieri nel cortile della prigione e disse cammina 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 il pastore aventista si inginocchiò sulla riva del fiume e mentre si inginocchiava ebbe una visione nella sua mente con un ponte che attraversava il fiume in quella visione l'essere angelico gli disse ora va e cammina lui si alzò e attraversò il ponte che nessun altro vedeva tutti gli altri videro che lui camminava sull'acqua e tornò indietro il capitano era stupito e molti di quei prigionieri hanno accettato Cristo negli ultimi giorni della storia della terra ci troveremo in circostanze molto difficili ma due terzi degli angeli del cielo sono al nostro fianco Gesù Cristo è al nostro fianco il Padre Celeste è al nostro fianco noi non abbiamo nulla da temere perché Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo la crisi arriverà le sfide arriveranno ma come riempiamo le nostre menti con la parola di Dio come uniamo i cuori con Cristo attraverso la preghiera quando capiamo che Gesù ha fatto tutto il possibile per proteggerci nella crisi anche se il diavolo farà i suoi miracoli o apparirà noi un giorno grideremo come vediamo Cristo venire tra le nuvole della gloria come vediamo i cieli illuminati dal suo splendore abbagliante grideremo questo è il nostro Dio noi lo aspettavamo come mai perché abbiamo rifiutato il falso Cristo non abbiamo accettato le delusioni demoniache noi abbiamo aspettato il nostro Dio che arriva nelle nuvole del cielo questo è il nostro Dio che arriva con milioni di angeli che arriva in uno splendore abbagliante questo è il nostro Dio che arriva per risuscitare i morti e per portarci a casa questo è il nostro Dio lo abbiamo aspettato e ci salverà amen preghiamo Padre Celeste nella battaglia tra il bene e il male nella battaglia tra Cristo e Satana il diavolo fa tutto il possibile per toglierci la fede in Cristo ma siamo grati che i due terzi degli angeli del cielo sono giusti santi e sono dalla nostra parte siamo grati di stare dalla parte del vincente siamo grati di non dover temere siamo grati che la preghiera e lo studio della Bibbia ci ancoreranno siamo grati che un giorno guardando in cielo diremo questo è il nostro Dio noi lo abbiamo aspettato e ci salverà non vediamo l'ora che arrivi quel giorno tienici fedeli nel nome di Cristo amen sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni grazie a tutti